Ed è in corso alla Lady Mark Club di Peso il workshop di flamenco, rivolto ai ballerini professionisti semplici appassionati di questa arte, curato da Joaquin Grillo, considerato una vera leggenda del flamenco. L'evento è reso possibile grazie all'invito della compagnia Alma Gitana di Lara Andres, che abbiamo intervistato telefonicamente in servizio. Sì, abbiamo organizzato questo workshop con un artista di fama internazionale, Joaquin Grillo, direttamente dalla Spagna, dalla Fere della Frontera, la patria del flamenco. Ed è un corso intensivo dedicato a tutti gli appassionati di quest'arte, che ha luogo in questi giorni dal 25 al 28 aprile a Pesaro, presso il Lady Mark Club. Chiaramente non è un'esibizione dell'artista, lui dà lezioni, quindi un corso intensivo per tutti i livelli, per principianti, ma anche per chi fa di quest'arte un mestiere, quindi anche per professionisti. Un incontro sicuramente molto interessante, dato che è un artista molto difficile da riferire, perché è sempre in giro per il mondo e quindi ci fa molto onore ospitarlo in questi giorni qui, proprio nella nostra terra. Se hanno piacere, possono usufruire di questa magia, ancora per altri due giorni, domani e domenica. Lara Andressi, invece, quando la rivedremo all'opera con il flamenco? Beh, sicuramente noi faremo ancora tappa a Montefiore, una località che ci ospita ormai da diversi anni e siamo sempre molto orgogliosi di farne parte per la prossima edizione di Rocca di Luna. Comunque è stata una location favolosa che si è pressata molto ed ha avuto molto successo. Salutiamo con un olè che fa sempre bene. Olè! Ciao! Ciao! Grazie.